Il programma televisivo trasmesso in prima serata su Sky 1 è replicato sulla piattaforma digitale terrestre, su TV8, e Real Time In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono tra loro, vengono divisi in tre coppie e si vedranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio diventando per legge marito e moglie Nel corso delle puntate, le coppie vengono seguite da tre esperti, Mario Abis, sociologo, docente all'ONLM di Milano, Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta e direttore clinico del centro TV, terapie innovative brevi Sostituito in questa stagione da Fabrizio Quatrini, psicoterapeuta di coppia, e Natalo Tredi, sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia all'Università La Sapienza di Roma Inoltre, verranno firmate per cinque settimane di convivenza, dove al termine di questo periodo decideranno se continuare ad essere sposati oppure divorziare Giunti all'appuntamento finale della quarta stagione, le varie coppie hanno dovuto prendere una decisione circa il loro matrimonio Qualcuna di esse ha deciso di interrompere il percorso nuziale e di separarsi Qualcun'altra, invece, ha preferito proseguire il cammino mano nella mano con il rispettivo partner Mancava solo la conferma, ma i fan del programma lo avevano ormai dato per certo Fulvio Amoruso, il 32enne di Castiglione della Pescaia ha detto no al matrimonio con Federica Maiorano, trentenne di Arluno, in provincia di Milano Fulvio e Federica, fin dall'inizio, hanno mostrato una serie di incompatibilità sfociate nelle ultime settimane di prova della loro relazione Le cose non sono andate bene ed entrambi hanno chiesto il divorzio Stesso finale amaro per Ambra e Marco Se quest'ultimo si era legato alla donna, lo stesso non si è potuto dire per lei Se Marco era pronto a rimanere con Ambra, quest'ultima non si è mai sentita abbastanza coinvolta in quanto tra loro vedeva un rapporto amichevole Punto ma per due divorzi c'è stato anche un vieto fine Quello tra Cecilia e Luca La coppia ha iniziato la sua avventura con un'intesa molto forte a partire dal giorno del matrimonio I due hanno trascorso la loro prima giornata totalmente a proprio agio e la loro complicità è durata per tutto il viaggio di nozze Dopo questo, però, per loro c'è stato un callo dato dal ritorno alla realtà, ma alla fine si è Cecilia e Luca hanno deciso di proseguire il loro percorso Le puntate sono state registrate diverso tempo fa, che in programma ci sarà anche la puntata speciale matrimonio a prima vista sei mesi dopo, e chissà se la coppia avrà resistito Grazie